Ben trovati alla seconda edizione della TG6. Apriamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Pescara, le prime luci dell'alba, ha portato a termine un'operazione finalizzata a smantellare un'organizzazione criminale specializzata nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti. Un sodalizio criminale radicato nel litorale Terramano e parte di quello marchigiano gestito da rom e albanesi. Francesca Romana Testi. Sette arresti operati dai finanzieri del comando provinciale di Pescara. Sette persone ritenute promotrici di un'organizzazione specializzata nel traffico e spaccio di eroina e cocaina. L'indagine prende il via nel settembre 2014 quando una donna di origine rom viene sorpresa a cedere 50 grammi di eroina. Tutta l'organizzazione, composta da rom e albanesi, ruota attorno al traffico di droghe pesanti. Fondamentali nell'indagine sono state le intercettazioni operate. In un anno sono state attenzionate 150 utenze, 10.000 ore di conversazione. I componenti dell'organizzazione si muovevano con cautela per evitare di essere intercettati. Il grande quantitativo di denaro fruttato dallo spaccio rendeva possibile il cambio ciclico di autovetture utilizzate e anche la bonifica delle zone. Secondo i registri contabili, ritrovati dalla finanza, in un mese il traffico fruttava 100.000 euro. Si trattava di un vero patto criminale. I rom, moglie e marito, si occupavano della rete dello spaccio che interessava il litorale Terramano. Fino ad arrivare ad Ascoli, gli albanesi invece facevano arrivare stupefacenti da Olanda, Germania e Albania. Secondo le indagini della finanza, l'organizzazione aveva grosse potenzialità e poteva procurarsi anche armi per intimidire i concorrenti sul proprio territorio. Nel modus operandi c'era anche l'accortezza di non portare mai stupefacenti nelle proprie abitazioni. Utilizzavano i boschi per sotterrare involucri da riprendere nel momento dello spaccio. I finanzieri hanno trovato tracce di questi passaggi nei boschi e casolari tra Terramo e Pescara. Per quanto riguarda il denaro, erano soliti sigillarlo, imbustarlo e spedirlo in Albania tramite autoline. Borsoni contenenti pacchi di pasta o bottiglie. In questo caso, secondo le indagini, l'organizzazione si forniva di un autista connivente di origine albanese. All'appello mancano ancora due uomini, entrambi albanesi rientrati in patria da mesi. Uno considerato il capo della rete criminale e l'altro invece un gregario. Cinque sono i chilogrammi di stupefacenti sequestrati dalle forze dell'ordine. Conteneva la testa muzzata di un capretto, un pacco sospetto con minacce riferite a un precedente avvertimento depositato verso le 14 di oggi davanti al centro accoglienza migranti, il mulino di Atessa. Termendo che contenesse esplosivi, i carabinieri della locale compagnia coordinati dal capitano Marco Ruffini hanno messo in sicurezza l'area per permettere l'arrivo degli artificieri che poi lo hanno fatto brillare. Nell'ambito delle indagini per procurato allarme sono stati avviati numerosi interrogatori ed eseguiti controlli sulle telecamere della zona. Il sindaco di Atessa, Nicola Cicchitti, parla di fatto vergognoso e miseria umana. Questi immigrati, è come se non ci fossero, ha detto, non stanno dando alcun problema alla popolazione. In città i primi immigrati africani sono arrivati. Lo scorso 7 ottobre, dopo la fuga di alcuni di loro, ne sono rimasti 9. Il 28 ottobre la prefettura di Chieti ne ha inviati altre 25 e da un mese, però parte della popolazione contraria ai migranti protesta. Ed ora il terremoto alla vigilia della lettura a Palazzo Chigi del decreto legge sul sisma che Renzi firmerà domani. Il presidente della regione Abruzzo si è recato questa mattina a Teramo, successivamente a Campli, per ascoltare direttamente le problematiche e le richieste del sindaco Maurizio Brucchi. Vediamo. Ogni danno troverà copertura normativa e finanziaria. L'unico obbligo sarà quello di dimostrare i danni da terremoto. Così il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, alla vigilia della lettura a Palazzo Chigi del decreto legge sul sisma, che domani Renzi firmerà, si è recato questa mattina a Teramo, successivamente a Campli, per ascoltare direttamente le problematiche e le richieste del sindaco Maurizio Brucchi. I sopralluoghi continueranno, ma soprattutto quello che serve, al di là del sopralluogo che produce un sentimento di vicinanza e di solidarietà, la compilazione delle schede Aedes, che sono fotografie della intensità, della qualità e della quantità dei problemi. Il primo cittadino di Teramo ha accolto con dati e numeri il governatore d'Abruzzo in visita al COC, report sulle scuole in primis, su 31 ci sono 13 verifiche sismiche, cita la prensione delle mamme e chiede al presidente D'Alfonso un aiuto concreto per risolvere prima possibile anche questa problematica. Il dato delle famiglie interessante fino ad oggi? In questo momento sono 308 quelle accertate, è chiaro che c'è tutta un'altra pretola di persone, non accertate che sono quelle che vanno dal familiare e dal parente, e qui però nei prossimi giorni avremo il dato certo. Il contenuto della richiesta a Palazzo Chigi? Quella di rendere più facili, più semplici e veloci le verifiche strutturali nel patrimonio privato e pubblico. Ad oggi noi abbiamo decine di migliaia di richieste, nel quadro di 300.000 richieste che ha prodotto l'Italia a Palazzo Chigi. Allora va modificata la norma e vanno aumentati i numeri dei professionisti abilitati. Io ho raccolto segnalazioni su questo da alcuni sindaci e tra questi dal sindaco di Teramo e ho riportato questa richiesta che mi è stata validata da Palazzo Chigi, da Errani e da Curcio. Questa sera definiamo questa partita importante sulla modificazione del chi può e deve fare le verifiche. Voglio anche mettere in evidenza che con il coinvolgimento della città-capoluogo di provincia di Teramo si segna un passaggio di scala dal terremoto del 24 di agosto al terremoto del 30 di ottobre. Come abbiamo brevemente ascoltato in questo servizio aumentano gli sfollati nella provincia di Teramo e in aumento anche il numero delle case inagibili, danni notevoli anche al patrimonio. Vediamo. Aumenta il numero delle persone assistite nella nostra regione dopo il sisma di domenica. La provincia più colpita è quella di Teramo che ad oggi conta quasi 3.400 cittadini fuori casa. Nel dettaglio a Teramo città le persone sfollate sono circa 700, oltre 150 le abitazioni dichiarate inagibili. Abbiamo raddoppiato i turni per quanto riguarda l'autonoma sistemazione perché le persone che necessitano di questo tipo di attività stanno crescendo in relazione anche alle ordinanze che ogni giorno vengono sottoscitte e firmate. Purtroppo assistiamo anche a delle inagibilità per quanto riguarda il centro storico l'ultima ieri sera verso le 22.30 a Palazzo Cerulli sul Corso Vecchio e quindi stamattina abbiamo dovuto affrontare anche il discorso del mercato di sabato. Noi vorremmo mantenere il mercato di sabato ovviamente, verrà sicuramente spostato da quella che suona la location classica e portato su via Savini. Solo nel comune di Montorio Alvomano sono 2.000 le persone fuori casa, tra cui 250 sfollati, oltre 30 le persone con disabilità che necessitano di assistenza continua, 240 le case inagibili. A Dancarano 50 sfollati e 6 abitazioni inagibili. A Basciano 43 ordinanze di sgombero. A Castelli ci sono circa 40 sfollati. A Campli 40 case inagibili e 150 persone sistemate nel palazzetto dello Sport. A Cellino a Tanasio gli sfollati sono 48 e la struttura comunale è inagibile. A Cermignano 30 persone sono in una tendopoli. A Civitella del Tronto ci sono un centinaio di cittadini sistemati in moduli provvisori e danni significativi nel centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia. A Coledara sono 3 le zone rosse, 130 persone fuori casa. A Crognaleto 36 le persone sistemate nei map. A Cesacastina è stato allestito un ricovero per 60 persone e annerito uno per 50. A Isola del Gran Sasso sono 50 gli sfollati. Il centro storico è stato evacuato e ci sono 5 scuole inagibili. A Notaresco 18 nuclei familiari evacuati. Infine a Penna Sant'Andrea ordinanza di sgombero per 20 famiglie, circa 100 persone. E i sindaci dei comuni del Terramano fuori dal cratere fanno il bilancio dei danni subiti nel sisma del 24 e del 30 ottobre e chiedono di non essere lasciati soli ai microfoni di Paolo Lorenzetti. I sindaci Terramani no cratere dei comuni di Colledara, Campli, Civitella, Castelli, Castecastagna, Tossicia, Isola del Gran Sasso, Torricella, Pietracamele e Fano Adriano lanciano un appello alle istituzioni per velocizzare le verifiche sugli edifici ma soprattutto per dare un tetto agli sfollati. Rappresentano circa 8.500 famiglie, oltre 20.000 persone alle prese con danni ingenti alle case e alle attività produttive. Per questo l'obiettivo è non essere esclusi dai fondi previsti per la ricostruzione. Quello che chiedo io alle istituzioni è di cominciarci a mandare immediatamente qualche fonda in modo da anticipare qualche mese della autonomia sistemazione a questi nuclei familiari in modo che possano fare contratti di affitto. Per il momento noi siamo fermi con le verifiche e le ordinanze a quello che sono state le verifiche del 24, a seguito del sistema del 24 dove abbiamo fatto 11 ordinanze di sgombero e chiusura e interdizione di parecchi tratti dell'interno del paese, però adesso aspettiamo le nuove verifiche per capire effettivamente quelli che sono i danni condizionali. Non mi vorrei prendere né all'analismo né a sottoportare la situazione nuova. Aspettiamo le squadre per capire ma i danni ci sono e sono evidenti. Noi abbiamo tutto il centro storico evacuato, abbiamo la sede comunale, questa mattina mi faranno la verifica per l'agibilità, speriamo perché i dipendenti non vogliono stare più dentro, presenta evidenti lesioni, poi abbiamo le scuole, sicuramente la media non sarà aperta per lunedì perché c'è delle strutture di tamponature, delle murature interne con evidenti segni di crolli, di cedimento e le altre necessitano di verifiche. Questa mattina mi arrivano le squadre della protezione civile. Nel nostro comune la situazione è che adesso proprio ieri ho fatto una serie di ordinanze proprio perché mi sono venuti alcuni tecnici del genio civile, ordinanze di inagibilità per cui la situazione è sicuramente molto critica. A noi chiediamo di non essere lasciati soli perché sicuramente la situazione è difficile, comuni come il mio che non hanno personale tecnico che faccia i sopralluoghi è veramente difficile. Io ho dei dati ufficiali, veritieri, ad oggi ho 243 persone sfollate, 110 famiglie sfollate, 110 ordinanze di inagibilità, 8 attività commerciali proprio ferme e bloccate e 9 chiese completamente inagibili. Io mi auguro adesso che la regione Abruzzo adotti degli annempimenti veloci, dia il potere ai sindaci perché ogni sindaco deve essere il commissario del suo territorio. E danni al patrimonio culturale per il comune di Sulmona, stanotte nuova scossa avvertita nella città Peligna, per il momento non si ha contezza dei danni economici. Ancora scosse nella notte, 4.8 con epicentro macerata, la terra continua a tremare e i comuni dell'entroterra Aquilano e Terramano continuano a subire danni e non avere certezza sulla fine dell'emergenza. Il comune di Sulmona oggi fa il punto della situazione in un clima di continua incertezza. È uno dei territori sismicamente più pericolosi, quindi noi vogliamo proseguire con un discorso di prevenzione. Il Presidente si è impegnato a stare vicino alla nostra comunità e quindi oggi parleremo anche di questo, su un progetto di un laboratorio sul Mona. È stata effettuata una stima approssimativa dei danni? Allora, rispetto a questi ultimi eventi, fortunatamente non ci sono stati dei danni rilevanti, però il nostro è un patrimonio antico e quindi molto vulnerabile da un punto di vista sismico, per cui dobbiamo lavorare proprio affinché non ci siano in futuro dei danni a causa di terremoti. Ancora stanotte abbiamo avuto delle scosse, quindi insomma ormai dobbiamo essere molto incisivi con una politica attiva, importante. Quali sono le priorità? Quella di conoscere esattamente le caratteristiche del nostro patrimonio immobiliare e fare uno straordinario piano di recupero. Oggi abbiamo questa occasione, la dobbiamo cogliere prima che succedano poi disgrazie e poi si parli di ricostruzione. Noi vogliamo mettere in sicurezza, non ricostruire. Torniamo a Teramo, il Comitato Genitori della Scuola di San Berardo chiedono al Comune verifiche alle scuole risposte certe sulla stabilità degli edifici in vista della ripresa delle attività didattiche previste per lunedì. Sempre lunedì riprenderanno anche le lezioni all'Università di Teramo dove le strutture antisismiche non hanno riportato danni. Dico ma che Comune di Teramo da questa mattina stanno lavorando anche al fascicolo scuole danneggiate dal terremoto. Due tecnici inviati dal Corri, il centro operativo regionale che si occupa delle verifiche sugli edifici pubblici, stanno passando il rassegno ai plessi cittadini per valutarne la staticità e la sicurezza sismica. Una volta compilate le schede AEDES della protezione civile ci sarà un nuovo incontro con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori per capire cosa fare alla riapertura delle scuole prevista per il prossimo lunedì 7 di novembre. Proprio i genitori ieri avevano manifestato al sindaco la propria preoccupazione per le lesioni riportate dagli edifici scolastici minacciando di non mandare i propri figli a scuola una volta riavviate le lezioni. Non si tratta di psicosi. I bambini hanno sempre reagito abbastanza, io parlo con tanti genitori, hanno sempre reagito abbastanza bene alle scosse. Il problema è che una crisi di panico a casa, dove magari anche la casa non è antisismica, tutto quello che si vuole è però accompagnata da un genitore che sa come muoversi. In una classe di 25 bambini, 5 bambini con una crisi di ansia, bloccati, ma come li gestisci? Non è possibile. Ho fermo senza inagibilità, le scuole non possono richiedere i moduli, né le tenze strutture, né nulla. Non avendole a disposizione, noi non possiamo decidere nulla. Noi siamo costretti e non possiamo rimanere costretti in una situazione come questa, non è possibile. Per il momento l'attività didattica è sospesa anche all'Università di Teramo, dove si tornerà sui banchi lunedì. Il rettore Luciano D'Amico rassicura sulla sicurezza delle strutture. Credo di poter rassicurare tutti sullo stato delle nostre strutture. Riaprirà l'attività didattica lunedì, ma solo per evitare gli studenti fuori sede di dover rientrare in queste ore, in questi giorni, di dover rientrare in un contesto, in una situazione che si va normalizzando, ma proprio perché si va normalizzando, abbiamo preferito non aggiungere ulteriore complessità. E anche la provincia di Pescara ha lavoro per operare. Sopralluoghi negli istituti scolastici colpiti dal terremoto al centro dell'attenzione. Ci sono l'istituto Spaventa di Città Sant'Angelo e alcune scuole dell'entroterra. Il presidente Di Marco intanto invita alla calma e a frenare inutili allarmismi. Sentiamo. Sopralluoghi sugli istituti scolastici di Pescara, sono due giorni che vanno avanti. Il quadro, per quanto riguarda le conseguenze del terremoto, qual è? Al momento abbiamo le precarietà più evidenti nella realtà di Popoli, nella realtà di Torre dei Passeri, Alanno e Penne. Mentre sulla città di Pescara, Montesilvano, l'attività è ripresa regolarmente e non si rilevano ulteriori difficoltà. L'ulteriore approfondimento è in corso allo Spaventa di Città Sant'Angelo e quindi stiamo monitorando con i tecnici, tra l'altro in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara, con l'ingegnere Vicaretti che coadua con l'ingegnere d'Incecco le squadre dei tecnici, proprio perché vogliamo consentire ai presidi, oltre che ai genitori e agli alunni, la massima informazione utile possibile per sapere qual è la funzionalità degli edifici. l'ingegnere d'Incecco sta in netta sintonia con gli altri responsabili e daremo notizie precise nel momento in cui i tecnici ci faranno il referto tecnico necessario per dare continuità all'attività didattica. In questo momento chiediamo massima collaborazione se è possibile non agitare ulteriormente l'opinione pubblica rispetto a questi temi, sapendo che c'è una provincia che sta monitorando pienamente ogni tipo di segnale che ci arriva e che noi riscontriamo direttamente negli edifici. Cambiamo argomento. La Corte d'Appello di L'Aquila ha ufficialmente confermato la validità della procedura del concordato per il risanamento dell'ACAR respingendo i ricorsi presentati da alcuni creditori. Ciò significa che la magistratura ha certificato e sacramentato la bontà del lavoro effettuato dall'amministratore unico sostenuto dai sindaci di centro-destra e da alcuni esponenti del centro-sinistra contro quel muro di sindaci targati PD, primo fra tutti il sindaco di Francavilla al mare Antonio Luciani, i quali sostenendo che a breve quel concordato sarebbe decaduto hanno organizzato il blitz per ripristinare la politica delle poltrone all'interno dell'ACAR. Ora vinceremo anche la seconda battaglia, quella contro la nomina del Consiglio d'Amministrazione che è illegittima in difesa degli interessi non di questo o quell'orticello ma della collettività. Lo hanno annunciato i sindaci di Chieti, Arsita, Atri, Bisenti, Cappelle, Sultavo, Casa d'Incontrada, Catignano, Civitella, Casanova, Colle, Corvino, Elice, Montefino, Moscufo, Pianella, Rosciano, scafa alla notizia della sentenza appunto pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila. E la FIOM ha indetto tre turni di sciopero alla SEVEL di Atessa a seguito della decisione aziendale di recuperare un fermo produttivo avvenuto lo scorso 16 giugno per un guasto tecnico. La FIOM ha deciso la protesta per sabato 5 novembre, domenica 6 novembre e sabato 12 novembre. Ancora una volta in SEVEL viene chiesto a tutti i lavoratori di pagare un prezzo che non meritano di dover pagare dice una nota in una nota Davide Labrozzi, il segretario provinciale FIOM. Secondo il sindacalista l'azienda ha comandato di procedere per il recupero della fermata produttiva del 16 giugno 2016 quando i lavoratori si recarono in SEVEL nonostante la stessa azienda sapesse che non ci sarebbe stata attività lavorativa per un guasto tecnico. La FIOM si dice contraria a forme di gestione dei fermi produttivi di questa natura. Chi lavora in SEVEL, aggiunge il sindacato dei metalmeccanici, ha già dato tanto in termini di sacrificio generale con retribuzioni bassissime, prestando lavoro straordinario per 14 giornate e con carichi di lavoro sempre più pesanti. Il tema della realizzazione delle vasche di laminazione delle piene del fiume Pescara previste per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica nel tratto che dalla zona di Rosciano-Cepagatti giunge fino alla foce e è stato al centro di un incontro che il presidente della giunta regionale Rosciano D'Alfonso nella sua veste di commissario delegato ha avuto questa mattina a Pescara in regione con i sindaci di Rosciano e Cepagatti. D'Alfonso pur comprendendo le ragioni di chi si mostra contrario alla realizzazione degli interventi poiché teme ripercussioni negative sull'economia agricola della zona ha ribadito la necessità di proseguire l'iter per arrivare velocemente alla gara d'appalto si tratta di opere per le quali sono già disponibili oltre 50 milioni di fondi statali al tempo stesso il presidente della giunta ha auspicando che ci possa essere convergenza rispetto al progetto delle vasche anti-esondazione ha confermato la volontà del governo regionale di prestare particolare attenzione alle istanze maggiormente avvertite dalle comunità di Rosciano e Cepagatti oltre alle problematiche specifiche di questo fazzoletto di territorio. E cambiamo decisamente argomento la giuria composta dal professor Carlo Casciani dal dottor Antonio Cicchetti dal generale di Corpo d'Armata ed ex comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Luigi Federici e dall'imprenditore Marcello Zaccagnini ha assegnato al conduttore televisivo Fabrizio Frizzi il tralcetto d'oro dell'amicizia per l'anno 2016. Vestina News. L'amicizia è un rapporto al quale tengo tantissimo io la vivo con tante sfumature diverse ho degli amici più stretti che sono i compagni di percorso di questo ultimo periodo ma conservo i rapporti di profonda amicizia con i compagni di scuola non ci vediamo spesso però sappiamo che c'è un tratto che ci unisce ma sono molto contento, molto onorato, a parte che stiamo in un posto favoloso una giornata che sembra di tarda primavera quindi è un sogno mi fa piacere conoscere la famiglia Zaccagnini ho letto di colui che condivideva l'amicizia con l'avvocato Prisco insomma è bello condividere bei valori condividere incontri con persone tra l'altro di altissimo livello c'è il senatore Zavoli sono molto onorato di essere qui oggi la costanza, la perseveranza, l'onestà la voglia di voler arrivare di avere davanti un obiettivo sempre vicino e chiaro senza mai staccarsi, con sacrifici perché non arriva nulla per caso il nostro esempio, quello che ha detto il Presidente perché sono 20 anni che con il Presidente ci incontriamo e ci onora ogni anno della sua presenza io non ho più i miei genitori e quando vedo il Presidente sento il sapore di un affetto non mi permetto di dirglielo perché può essere troppo confidenziale però è veramente un senso affettuoso che lui trasmette che è una cosa grande sono valori immensi Ed ora passiamo alla pagina sportiva anche nello spareggio salvezza con Lempoli Odo dovrà fare i conti con diverse assenze tornano Campagnaro e Verre il servizio Non bastassero i problemi di classifica e di risultati Massimo Odo è costretto anche a convivere con un'emergenza assenze che rischia di diventare quasi cronica ormai da settimane il tecnico pescarese è costretto a fare i conti con l'infermeria piena e con le tante assenze che condizionano inevitabilmente le sue scelte e lo schieramento dell'undici titolare Era stato così alla vigilia delle gare con Udinese, Sampdoria e Milan e sarà lo stesso per lo spareggio salvezza con Lempoli che Odo avrebbe preferito affrontare con qualche defezione in meno e qualche certezza in più ma non sarà così all'appello della sfida con gli azzurri toscani dell'ex Daniele Croce mancheranno certamente Coda, Ghiomber e Brugman che è squalificato quasi certo anche lo stop per Aquilani a causa della ferita alla testa riportata nella gara di San Siro resta in forte dubbio l'impiego dell'attaccante Jean-Christophe Baybeck che nella migliore delle ipotesi potrà trovare posto in panchina le buone notizie riguardano il probabile ritorno di Verre quello di Simone Pepe che però per stessa ammissione di Massimo Oddo non è ancora al 100% della condizione tanti dunque i problemi per una squadra che domenica alle 12.30 avrà l'imperativo di conquistare i tre punti per l'occasione è probabile il ritorno sulla tre quarti di Gianluca Caprari con l'albanese Reimanai unica punta in difesa tornerà Campagnaro mentre a centrocampo con Memushai e Verre dovrebbe giocare Cristante importante il ruolo di dodicesimo uomo in campo dei tifosi biancazzurri che mai fino ad oggi hanno fatto mancare l'appoggio alla squadra ed ora andiamo a conoscere meglio i prossimi avversari del Pescara nella formazione toscana milita anche una vecchia conoscenza del calcio abruzzese ed ex giocatore del Pescara il giuliese Daniele Croce che ascoltiamo nel servizio ha un sapore particolare per me per il mio passato per un posto dove sono cresciuto quindi sicuramente mi fa piacere tornarci soprattutto in una partita di Serie A quindi sarà una bella emozione per me penso alla partita che è una partita troppo importante per lasciare spazio a sentimenti e ricordi so che la caricheranno tantissimo e ai giocatori questo arriverà poi mi immagino di trovare anche un pubblico abbastanza numeroso e caloroso domenica quindi dovremmo essere ancora più bravi noi a cercare di smorzare questi toni che arriveranno dall'esterno e cercare di rimanere lucidi e concentrati sulla partita è una squadra forte secondo me perché è una squadra forse molto simile a noi a me mi ricorda molto magari il primo anno nostro di Serie A una squadra che ha vinto la Serie B giocando a calcio con tutta gente piccolina, tecnica e stanno provando a fare la stessa cosa in Serie A quindi a provare a salvarsi tramite il gioco che è quello che abbiamo fatto noi fino adesso e che ci ha portato risultati ora non vengono da un momento positivissimo forse come noi a livello di risultati però hanno fatto prestazioni anche importanti e hanno anche i giocatori secondo me molto validi quindi dovremmo essere attenti a non sottovalutarli perché secondo me è una squadra forte Scendiamo in Lega Pro è finita 4-3 la partita di Coppa Italia tra Teramo e Lupa Roma ci sono voluti i supplementari per decidere la qualificazione in una partita rocambolesca andiamo ad ascoltare il commento a fine gara dell'allenatore in seconda del Teramo Vittorio Calabrese Sicuramente meritata anche se è arrivata ai supplementari con grosso merito e soddisfazione da parte nostra in quanto è venuta per dando spazio a ragazzi che avevano giocato poco che quindi meritavano di prendersi questa bella rivincita questa vetrina quindi con grossa soddisfazione veramente prendiamo per veramente buono quello che è venuto questa sera confermandoci che appunto il gruppo è valido i ragazzi si allenano bene lavorano tanto per cui hanno meritato tutto tutto quello che di buono hanno fatto questa sera anche se ecco hanno avuto meno spazio ma meritano di giocare meritano di stare in questo gruppo in questa società perché lavorano molto bene in settimana per cui diciamo che merito del loro impegno dell'atteggiamento per cui veramente con grossa soddisfazione prendiamo per buono questa gara che hanno tirato fuori a Petrella penso insomma che adesso si fanno gli accertamenti del caso è stato penso che sia speriamo che non sia niente di grave necessita di una lastra molto probabilmente quindi speriamo che non sia niente che lo tenga fuori per lungo tempo dal campo ma sicuramente vincere fa bene vincere aiuta a vincere per cui insomma aspettiamo di rimaniamo concentrati sulla settimana e per poi avere una risposta positiva speriamo sabato ecco ed è tutto per questa seconda edizione l'appuntamento con il TG6 torna puntuale alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per la visione